Punto di rottura, l'informazione che spacca con Rush. Bentornati su Radio Roma Television, sul canale 14 con Punto di rottura. È un piacere ovviamente ritrovarvi qua anche in questa giornata. Chissà di particolare, ieri abbiamo avuto modo il piacere di poter passare una replica del programma, ma oggi torniamo in diretta per andare a toccare un po' di argomenti, sapendo un po' come sono fatto, mi piacciono stuzzicare, mi piace dare la possibilità di tirare fuori un sacco di opinioni che spesso e volentieri a volte funzionano, non funzionano, c'è disaccordo, c'è accordo tra le persone, ma questo è un po' il popolo italiano, siamo un po' fatti così. E la cosa che mi piace in questo programma è poter dare la possibilità a tutti quanti di poter dire la propria. Lo sapete come al solito, c'è il numero di WhatsApp che vedete qui, che è il 320-2393833, usatelo per raccontare, per condividere, per commentare, per domandare, che fa sempre piacere, questo è poco me sicuro. Io come al solito dalle 12 in diretta, poi in replica dalle 19, vado a toccare degli argomenti che sono abbastanza comuni, argomenti che a volte fanno arrabbiare, a volte fanno discutere, argomenti che a volte ci piacciono o meno. Prima di iniziare voglio salutare come al solito la regia di Matteo Lupini, dietro le telecamere, che ci darà assistenza anche in video, per potervi poi mostrare gli articoli che ho trovato e dare una mano praticamente a tutti per essere più chiari possibili, anche perché, ripeto, a volte le tematiche sono complicate e a volte no. E a volte invece noi ce le complichiamo, perché siamo fatti un po' così come esseri umani. Allora, a prescindere oggi voglio fare un piccolo passo indietro alla giornata che è stata del primo di novembre, perché il Click Day, lo conoscete bene, è quel momento tanto aspettato da molti italiani per poter prendere questo benedetto bonus di 60 euro. Un bonus che ieri ha portato molti italiani davanti al PC, davanti ai smartphone, davanti ai tablet, a litigare con i propri cari in casa, ha portato un sacco di discussioni e capirete poi il perché. Un'altra cosa che fa discutere, e ne ho parlato questa mattina, e sapete bene che i miei due programmi sono praticamente legati tra di loro, e parlo di Breaking Bad, il programma radiofonico che conduco dalle 7 alle 10 su Radio Roma, e trovo le news e le notizie interessanti da poter poi condividere anche in punto di rottura. Qui ho più tempo, ho più spazio a livello televisivo e ho la possibilità di poter raccontare o spiegare meglio magari dei fatti, delle cose che accadono. Torno a parlare di un video virale che in realtà è diventato quasi un caso politico. Si parla di lavoro, di ore di lavoro, si parla del fatto che lavoriamo troppo, lavoriamo troppo poco, ci servono più ore per essere più produttivi, ce ne servono di meno, parleremo anche di questo. Poi ci saranno altri argomenti ovviamente che seguiranno, come vi ho abituato praticamente da qualche mese a questa parte, a punto di rottura. Io direi che possiamo partire subito, e voglio partire con il click day che c'è stato ieri per quanto riguarda il bonus trasporti. 577 mila sono stati fortunati, tra virgolette, che si sono portati a casa questo bonus trasporti, un bonus che va dato e che si può dare alle persone che in realtà hanno un rendito, hanno avuto un rendito inferiore ai 20 mila euro nel corso dell'anno 2022. Ovviamente questo perché? Per cercare di agevolare più famiglie possibile. Io vi voglio un po' soffermare su questa cosa, e leggete qui, si tratta del contributo da 60 euro per chi ha un rendito 2022, superiore a 20 mila euro, e può quindi accedere a questi voucher, che sono validi per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale, per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Ora, vi voglio soffermare su questa cosa perché dovete sapere che, se seguite bene i social, che anche qui c'è stata un bel, una gran bella divisione, e sapete che il nostro claim è l'informazione che spacca, che spacca in realtà il popolo a metà. E anche qua c'è stata una bella scissione, una bella divisione, perché molte persone hanno pubblicato, facendo screenshot sui propri social, la contentezza di aver ricevuto questi 60 euro di bonus, come chissà cosa fosse. Altri invece hanno puntato il dito dicendo, ma vi rendete conto che noi stiamo elemosinando 60 euro, ma come campiamo in questo paese, per aver bisogno di 60 euro, per prendere un mezzo pubblico, un autobus, un trenino. E qui il popolo si è veramente spaccato a metà. Ora, sicuramente i bonus non possono essere bonus eclatanti, non è che ti possono pagare tutto l'abbonamento, o meglio ancora, non è che possono regalare soldi a tutti, ma dovete pensare che ci sono molte famiglie che hanno veramente grandi difficoltà ad arrivare a fine mese. Non voglio stare qua a farvi la storia, perché lo sapete che non sono fatto così, sono uno che chiacchiera, che dà opinioni. Però spero che magari questa chiacchiera tra di noi, durante questa prima pausa pranzo, pranzo che sia, o aperitivo che sia, possa un po' diciamo allargare le teste di molti italiani, non solo che seguono punto di rottura. Effettivamente, ripeto, ci sono molte famiglie che fanno veramente i conti a fine mese. Questo lo stacchiamo, qua non lo possiamo andare, questo ce lo dobbiamo evitare, la spesa la possiamo fare solo in questo tipo di discount, varie situazioni. E se andiamo a dare questo bonus di 60 euro a una famiglia che magari si trova 60 euro o meno, che lo diceva, beh, che sono 60 euro? Perché credetemi che questo è stato un vociferare di molte persone. Adesso non voglio e non mi metto e non mi sono mai permesso di poter fare conti in tasca a nessuno, quindi ho sentito queste cose, ho letto messaggi che sono arrivati, ma non mi permetto di chiedere a qualcuno di voi quanto è il vostro reddito annuale, perché non mi sembra il caso. Ma se avete un reddito che supera i 20 mila, se siete a 30 mila, 40 mila, è ovvio che probabilmente non avete bisogno di questi 60 euro i vostri figli o voi stessi non ne avete bisogno. e sicuramente, apro parentesi e chiudo parentesi, non vi cambia la vita poter pagare 60 euro in più. Mentre considerando che ci sono molte famiglie italiane, ripeto, che fanno veramente i conti a fine mese, quindi per poter permettersi magari qualcosina, quei 60 euro sicuramente hanno dato una mano, in questo caso a 577 mila persone. Un dato curioso però, che non è stato così lo scorso mese, ricordo a tutti che se non ci siete riusciti probabilmente verranno stanziati alti soldi per il prossimo mese. Un dato super curioso è stato il fatto che ci sono state molte persone che sono arrivate in ritardo. Leggete qua. Restano dunque ancora per i ritardatari o chi non è riuscito a collegarsi al click day più di 4 milioni di euro, giusto? Grazie alla regia. Il totale disponibile, c'erano troppi zeri, e trafino il totale disponibile dei fondi era di 37 milioni. Questo è un articolo di ieri, perché ad un certo punto, verso le 15 e 30, c'è stato una specie di blocco e non è mai successo. Di solito alle prime ore del mattino, pam, tutti i bonus, adios. E invece verso le 15 e 30 c'è stato questo piccolo blocco e lì questi ritardatari, quindi l'articolo che vi ho appena citato, sono arrivati piano piano e alla fine giornata, diciamo che hanno consumato tutto il bonus possibile. Ora, situazione importante, lo leggete anche qua, scoppia la protesta tra chi spiega di avere davanti già 130 mila persone con enormi tempi di attesa dall'inizio del click day. E chi parla di sito del ministero è andato in crash. Allora, succede sempre così. Questi sono vari articoli che noi troviamo. Onestamente parlando, quando c'è un click day, qualsiasi cosa voi mettete, va in crash, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, perché è un sito ed è difficile che riesce a supportare milioni di persone che si collegano nella stessa frazione di secondo. Sfido la tecnologia a volte a gestire queste cose. Ci può stare, poi sono cose pubbliche, comuna, ci può stare. Per quanto riguarda il discorso delle 130 mila, persone che dicevano 200 mila, anche questa è stata una protesta sui social che è uscita fuori, ma è normale. Uno dice, com'è possibile che alle 8, quello apri, alle 8 clicco, ci stanno 200 mila persone. È possibile? Ve lo spiego. Non siete in 10, non siete in 20, non siete in 30. Stiamo parlando di un... Vi dico solo che a Roma siamo quasi 3 milioni. Ok? Voi immaginate magari un milione di persone, non tutti e tre, un milione di persone. Immaginate tutti quanti, il popolo italiano che alle 8, meno un minuto, è già lì a cliccare, pronto per entrare. E una frazione di secondo è ovvio che ci sono davanti 130 mila persone, ma strano che non ce ne sono state magari 800 mila persone davanti. Comunque, morale della favola, molti se lo sono aggiudicato, altri non ci sono riusciti, ma poi, ripeto, sui social è scoppiata questa cosa di ne abbiamo bisogno per andare a lavorare, non ne abbiamo bisogno, lavoro pure troppe ore al giorno per poter arrivare al mio posto di lavoro, ho bisogno per forza di prendere un mezzo, perché se ci vado con la macchina poi è un casino, so un'ora del traffico ed è ancora peggio. E questo è un altro argomento, perché poi, questa cosa legata ovviamente di chi poi sceglie di prendere l'auto per spostarsi e andare al lavoro e magari spreca un'ora, un'ora e mezza del proprio lavoro, del proprio tempo libero, tra virgolette, per raggiungere il posto di lavoro, è uno dei, diciamo, casi che sta facendo chiacchierare un sacco di persone. è uscito un video, ieri, l'altro ieri, un video che è diventato virale praticamente subito. Allora, parliamoci chiaro, è un argomento dell'orario di lavoro che noi stiamo portando avanti già da molto tempo, da molti anni e abbiamo ben capito che qualcosa è stato fatto in Italia e qualcosa no. cioè non siamo proprio un paese super nordico, cioè non è che ci possiamo proprio permettere di lavorare 4, 5, 6 euro al giorno, non ce lo possiamo permettere secondo il mio punto di vista perché anche la scienza lo dice, no, se lavori di meno sei più produttivo, sì, ma purtroppo noi in Italia questa cosa non sempre, diciamo che non siamo mai stati così tanto bravi nel dimostrare questa cosa, troppi furbetti di turno, troppe situazioni che costringono poi l'azienda a dire no, no, ci dobbiamo lavorare per forza 8 ore al giorno per poter poi diventare produttivi, cosa che ripeto, io per esempio non sono d'accordo, per me meno si lavora meglio è per essere più produttivi e sono sicuro perché poi ci sono un sacco di perdite di tempo, comunque, io direi di fare una cosa, noi abbiamo l'estratto, quindi abbiamo il video che è diventato virale, ve lo facciamo vedere dopo la pubblicità, quindi rimanete lì come perché sta per iniziare tra pochissimo la seconda parte di punto di rottura, ripeto, inizieremo a parlare di queste ore di lavoro, un video virale lanciato da questa tiktoker, questa ragazza che fondamentalmente si è semplicemente sfogata, ma credetemi che è quasi diventato un affare, non dico politico o un caso politico, ma poco ci manca, quindi rimanete là, punto di rottura torna tra pochissimo per la seconda parte insieme a Merash, come al solito è un piacere potervi accompagnare nelle nostre giornate, non toccate niente, telecomando a posto, a tra poco. punto di rottura, l'informazione che spacca con Rush. E torniamo in studio per questa seconda parte di punto di rottura, l'informazione che spacca, se vi siete persi la prima parte non vi preoccupate perché tanto poi durante questa giornata ci sarà modo di poter riguardare la replica sul sito di radionoma.it dove trovate nella sezione replica tutti o meglio ancora potete poi attendere nel pomeriggio, tarda serata che sia, dalle 19 in poi zona aperitivo ci sarà la possibilità di poter rivedere la puntata in replica. Allora, prima parte destinata al bonus, ci siamo fatti una chiacchierata non tanto politica legata, perché il bonus va dato, non va dato, è un'opinione, abbiamo dato la nostra opinione o la mia più che altro ma anche quella che poi ho confrontato questa mattina con molti degli ascoltatori di Radio Roma che ovviamente mi seguono con Breaking Bad il mio programma radiofonico che va in diretta dalle 7 alle 10 se avete avuto modo bene se magari siete curiosi domani mattina vi aspetto lì e poi capirete come questi due programmi sono praticamente la stessa cosa sono legati tra di loro. Si riparte con la seconda parte di Punto di Rottura grazie ancora alla regia capiterata dal nostro Matteo Lupini dietro le telecamere e torniamo un po' a farvi capire dove vogliamo andare a parare. Allora, prima di mandarvi in pubblicità ho lanciato questa cosa legata a questa ragazza che alla fine non è proprio una ttoker è semplicemente una ragazza che ha lanciato un suo sfogo sui social ve la spiego in breve se vi siete persi la notizia praticamente lei scoppia a piangere e credo ovviamente dovuta da una crisi isterica che succede a tutti io sfido qualsiasi tipo di persona a non aver provato una sensazione del genere quindi lei scoppia in questo pianto dopo aver scoperto che avrebbe dovuto lavorare per otto ore consecutive quindi dalle nove alle 17 un orario del genere ma non mi voglio soffermare su questi dettagli lei scoppia in questo pianto quasi isterico dicendo non riesco più a fare niente torno a casa mi faccio una doccia mi metto a letto svengo mi devo mettere a dormire perché poi dopo non riesco a fare il mio lavoro non stiamo parlando di un carpentiere di un manovale stiamo parlando di una ragazza che studia marketing ha studiato marketing e in questo momento è stata assunta in questa azienda lei nel suo sfogo dice io non ho più tempo libero per poter fare le mie cose e io vi dico la verità me la sono un po' studiata questa cosa perché tanti l'hanno un po' attaccata tanti le hanno dato ragione è vero non si può lavorare otto ore al giorno c'è chi si è diviso tra uomini e donne ancora questa cosa le donne non possono lavorare otto ore gli uomini sì c'è stato anche questo sui social perché poi mi sono dato una bella letta mettiamo così sul su qualsiasi tipo di social il più comune meno conune sugli articoli di giornali sui blog perché veramente molte persone hanno iniziato a parlare di questa cosa ma sempre perché perché davanti ci sono le otto ore quindi le otto ore lavorative ed è un argomento che in italia è stato toccato già più di una volta ma anche in punto di rottura noi abbiamo toccato questo argomento se è giusto lavorare otto ore non è giusto e abbiamo visto che ci sono paesi soprattutto paesi che comunque sono un po' più nordici paesi che non hanno questo nostro tipo di cultura lavorano quattro ore al giorno cinque ore al giorno sei ore al giorno sfruttano la produttività e i dati hanno poi fatto capire che fondamentalmente si hanno delle grandissime agevolazioni ci sono delle aziende italiane abbiamo detto alcune banche che hanno fatto firmare sul contratto questa cosa la rinuncia magari di qualche ora per pochi spicci al mese o qualche ferie e molti italiani hanno deciso di farlo per avere più tempo libero da poter passare con la propria famiglia in realtà il noccio della questione è proprio qua lei denuncia si lamenta del fatto che a tempo realmente di tornare a casa farsi una doccia mangiare e mettersi a letto denuncia il fatto che per andare a lavoro ci mette un'ora ma più di un'ora quindi voi adesso considerate questa cosa io me lo sono fatto il calcolo otto ore di lavoro un'ora per andare a lavoro diventano nove un'ora per tornare a casa diventano dieci considerando che abbiamo ventiquattro ore al giorno non è che possiamo averne di più anche se alcuni di noi magari vorrebbero vorrebbero avere più ore scusate abbiamo dieci ore messe così ventiquattro sono quelle della giornata quindi alla fine mettine otto che dovresti dormirne sette facciamo sei veramente ci rimangono poche ore da poter dedicare a noi stessi torniamo a casa alle cinque di pomeriggio alle sei di pomeriggio veramente ci rimane ben poco e quindi da una parte io non non vado a colpevolizzare questa ragazza perché fondamentalmente lei ha detto una cosa giusta ora molti la stanno criticando per la giovane età dicendo sei una ragazza sei giovane io spaccavo le pietre all'età tua non mi fermavo mai sicuramente ci può stare questa cosa però lei dice in un articolo che poi è stato postato nelle sue dichiarazioni dice anche che vabbè ma voi lavoravate quanto a noi perché noi lavoriamo quanto a voi della generazione z o millenials che sia però viviamo e lavoriamo in condizioni peggiori con un salario peggiore allora facciamo così e adesso vi faccio vedere questo video chiedo intanto l'aiuto della regia il video sarà in inglese voi intanto guardatevelo io vi ho accennato una serie di situazioni guardatevi il video poi per chi ovviamente parla la lingua è bene se no poi ci penserò io e poi lo ricommentiamo insieme andiamo i know i'm probably just being so dramatic and annoying but this is my first job like my first 9-5 job after college and i'm in person and i'm commuting in the city and it takes me fucking forever to get there there's no way i'm gonna be able to afford living in the city right now so that's off the table like fucking duh if i was able to walk to work it'd be fine but i'm not so it literally takes me like i leave here like i get on the train at 7.30 and i don't get home till like 6.15 earliest and then like i don't have time to do anything i don't i want to shower eat my dinner and go to sleep i don't have time or energy to cook my dinner either like i don't have energy to work out like that's out the window like i'm so upset oh my god nothing to do with my job at all but just like the 9-5 schedule in general is crazy being in the office 9-5 like if it was remote you get off at 5 and you're home and everything's fine but like i'm not home it takes me long to get home and like like people that drive to the office like it doesn't you don't get off at 5 and i know it could be worse i know i could be working longer but like i literally get off it's pitch black like i don't have energy how do you have friends like how do you have time to like meet like a guy i don't know like how do you have time for like dating like i don't have time for anything and i'm like so stressed out and i'm also getting my period so that's why i'm all emotional but like am i so dramatic it's fine questo è il video che volevo mostrarvi tutto in inglese ovviamente morale della favola è quello che un po' ho diciamo descritto io nella prima parte prima di farvelo ascoltare proprio perché essendo non in madrelingua italiana o in italiano che sia quindi ci tenevo ovviamente a spiegarvelo prima morale della favola è proprio questo lei dice oh io esco vado a lavorare ci metto un'ora un'ora torno a casa non ha più tempo per vivere infatti c'era scritto 9.05 quindi sarebbero state 9.17 nell'orario europeo italiano che sia e io mi soffermerei su questa cosa perché ripeto secondo me ha ragione ora magari ve la prendete con me ci sono persone che lavorano pure 10 ore al giorno 15 ore 20 ore al giorno bravi meravigliosi ma avete tempo per voi stessi e io mi sono posto questa seconda domanda e poi ho cominciato dopo aver letto anche un po' di risposte che sono arrivate questa mattina di gente che dice guarda che io adesso ho 35 anni 34 anni lavoro 12 ore al giorno 14 ore al giorno e dico a parte che ognuno è libero di fare quello che vuole e questo è il programma proprio perfetto per poter enfatizzare nel miglior modo possibile questa cosa ricordatevi che il punto di rottura è un programma super aperto ve lo dico al 100% quindi non c'è politica di mezzo me ne frego non ci sono ragioni me ne frego ognuno ha la sua opinione e io rispetto l'opinione di tutti e quindi vi dico anche la mia secondo me lavoriamo troppo secondo me dobbiamo lavorare di meno aumentare la nostra produttività ma farlo se non lo facciamo siamo scemi noi perché se vogliamo lavorare di meno avere più tempo libero dobbiamo dimostrare ai capi o comunque tutti quanti piano piano dovremmo dimostrare a chi è proprietario di un'azienda che si può fidare a farci lavorare di meno e può vedere la produttività magari anche aumentare questa non è una cosa molto semplice non è un ragionamento semplice da capire sono pienamente d'accordo ma io credo che prima o poi arriveremo a questo anche perché molti ragazzi quindi generazione Z i new entry stanno abbandonando questa questione ho letto anche commenti sui social di mamme che dicono ha ragione la ragazza mia figlia lavora 8 ore al giorno tra che va e torna ed altro quando torna a casa è distrutta che vita fanno questi ragazzi sì c'è anche la cosa da dire che comunque da giovincello 18, 19, 20 anni 21 anni ha veramente un'energia da spaccare il mondo ma non tutti sono così ci sono persone che tornano a casa dopo una giornata di mezzi pubblici di traffico cioè io ascolto persone che veramente litigano sui mezzi quando tornano a casa vogliono vedere solo il letto e ovviamente poi la vita sociale non te la fai quindi ci può stare e io credo che dovremmo un po' analizzare meglio ma anche noi stessi dovremmo cercare di analizzarci nel miglior modo possibile con questo video che è stato criticato e ricriticato e ritritato però io oggi vi voglio veramente svegliare con questa domanda uno siete felici di quello che fate del lavoro che fate due avete del tempo libero per voi stessi riuscite a gestire del tempo libero per voi stessi non importa se lavorate due ore al giorno ne lavorate 15 ci sono persone che non sono in grado anche con poche ore di lavoro e avere tanto tempo poi libero a gestirselo io vi lancio solo questa cosa perché ne ho parlato parecchio anche nella mia vita privata vi do un consiglio e lo dicono gli esperti non sono io a dirlo io lo ricordo e basta approfittate del vostro tempo libero e smettetela di dire sempre sì perché sempre sì perché ci sono persone che hanno paura di passare per cattivi per maleducati se dicono di no ad un collega di lavoro che gli chiede una cosa in più ad un genitore che gli chiede una cosa in più ad un amico che gli chiede una cosa in più imparare a dire di no fa bene fa bene e aiuta a preservare il nostro tempo libero non vuol dire essere maleducati con qualcuno forse è maleducato quello che continua a chiederti di fare cose anche quando non dovresti quindi allunghi il tuo orario di lavoro allunghi il tuo tempo passato davanti a un pc invece di stare con la tua famiglia con la tua compagna o compagno con i tuoi animali o con te stesso quindi oggi vi lascio solo con questa con questo pensiero imparate a dire di no imparate a dire di no non vuol dire essere maleducati ma vuol dire amare se stessi vi lascio solo con questa cosa punto di rottura però torna domani stesso orario dalle 12 su Radio Roma Television mi raccomando che sarà alle 14 segnatevi questa data io vi saluto buon pranzo buon aperitivo dipende dall'orario che avete scelto per poter seguire questo programma grazie alla regia di Matteo Lupini a domani mi raccomando sempre qua vi aspetto punto di rottura l'informazione che spacca con Rush